Bentornato negli studi di Temporadio, andiamo a Benur Tondini, capogruppo del gruppo civico con Benur Percavriano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi della redazione, sempre gentilissimi. Faccio così, così faccio ridere un po' il regista. Eh sì. La mascherina c'è, ci siamo, siamo pronti, naturalmente italiani fino al midollo. Quindi dovrebbe essere una cosa che fa riflettere, italiani fino al midollo. E anche oltre. Allora, dunque, per quanto riguarda gli ascoltatori, noi li invitiamo ovviamente, italiani e non, comunque. Tutti, sì, naturalmente non facciamo. A partecipare alla trasmissione, ricordo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 348-3188-339 e poi ancora per chiamarci 0376-63-1709. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare di Cavriana e il primo della banda, il primo di musica. Prima cosa, musica, perché se vogliamo essere positivi, permetto, il lockdown finito, cancellato, passato. Adesso bisogna pensare positivi, bisogna essere aggressivi, entusiasti e andare avanti, perché se continuiamo a parlare di quello che è stato, del danno che ha creato, non è più finita. Quindi, qual è la miglior cosa con la musica? Qual è la miglior soluzione di sentire della dolce melodia? Quindi, così, magari, ricordando anche e salutando Ennio Morricone che ci ha lasciato all'inizio di questo mese. settimana prossima iniziano le prove della banda musicale di Cavriana. Iniziamo, riprendiamo in uno spazio aperto, quindi mi sono confrontato con il presidente Enrico Caiola, quindi si riparte con il maestro Silvio Micheli. Mercoledì prossimo riniziano le prove, quindi per così rimettere, rinnescare con l'entusiasmo che c'è, e magari preparare qualche sorpresa per la cittadinanza, qualche concerto, vediamo. Quindi questa è una cosa molto positiva, perché vuol dire che si sta ritornando sempre di più alla normalità. In spazio aperto, eh? In spazio aperto, sì, perché Cavriana, se è una cosa in cui non è proprio... non manca, sono gli spazi aperti. Pensate ai giardini superiore di Villa Mira, pensate proprio agli giardini di Villa Mira, pensate allo spazio del castello, agli spazi di San Sebastiano. Se c'è una cosa che non manca in Cavriana, sono gli spazi veri, gli spazi all'aperto, quindi la possibilità di fare aggregazione e non assembramento. Quindi si può fare benissimo e abbiamo un grande vantaggio. Noi, dico tutti, noi collinari che abitiamo in questi, nei paesi dell'entroterra a Gardesano, quindi Cavriana fa 4.000 abitanti, Volta 7.500, Solferino 2.500, quindi abbiamo degli spazi tutti che sono bellissimi da godere. E vuol dire, se lì con la musica penso meglio ancora. Per cui sì, assolutamente. Tra l'altro musica che... Quindi musica maestro si riparte. Sa cosa? Tra l'altro la musica è stata riscoperta particolarmente durante il lockdown, non per guardare indietro, ma si è scoperto quanto sia importante proprio... Beh, si dice che chi comunque studia musica o comunque suona uno strumento, canta o che frequenta il mondo musicale abbia un animo più predisposto all'accettazione. Esatto. E non è un caso che ci fossero i concerti spontanei nei balconi, li abbiamo visti, per esempio. Non è un caso, si sarebbe potuto, non so, fare i murales, se si potrebbe... Invece si è scelto proprio quello. Ci sono tantissime persone che comunque anche in maniera molto autonoma, quindi autodidatta, suonano, cantano e questo non fa che bene a tutta la comunità. Esatto. Allora, dunque, e poi c'è un'altra cosa anche, sempre non per guardare al passato, ma per goderci la libertà del presente e del futuro, ovviamente si spera. Parliamo anche di sport, il movimento. Beh, Tamburello, che è lo sport predominante cabriana, anche in questo caso tutte le attività sono riprese nel rispetto di tutte quelle che sono le normative che è predisposte alla regione Lombardia. Quindi io che faccio il direttore tecnico della squadra femminile, le giovanissime quasi allieve, diciamo, che ieri sera abbiamo fatto l'allenamento, la procedura è proprio quella, che si entra nello sferisterio, si immisura la temperatura ogni singolo atleta, si compila una scheda con il nominativo, l'orario, l'entrata. Per i minorenni c'è una scheda firmata ai genitori che viene comunque riaggiornata ogni 15 giorni. Ci sono i disinfettanti predisposti su tutto l'intero campo di gioco, quindi ci sono degli erogatori di disinfettanti per le mani. La mascherina non la utilizziamo quando si fanno le corse perché sarebbe abbastanza penalizzante per l'atleta, ma soprattutto anche perché il tamburello crea poco sembramento. Cosa vuol dire? Non è uno sport di contatto. Non è uno sport di contatto, si è già in un spazio molto aperto, quindi sono riniziate anche tutte le attività giovanili. Prima abbiamo iniziato solo il settore dei maggiorenni, quindi dalla serie D alle squadre femminili con tutte i maggiorenni. Oggi tutta l'attività si è riattivata anche nel settore giovanile, giovanissimi allievi, quindi mattina e pomeriggio lo sferisterio di Carolina sta ritornando a pullulare di persone con la sua vitalità. Naturalmente i campionati sono sospesi e per quest'anno tutto si è arenato, fermato per quanto riguarda la competizione a livello nazionale, però c'è la competizione tra i singoli, tra gli amici. Anche questo è un modo per ritornare alla normalità e riprendersi quella libertà che qualcuno dice che c'è stata imposta, però a questo punto, visto che stiamo riprendendo bene, cerchiamo di rispettare ancora la normativa in modo tale che non vi sia un ritorno a un blocco sia della viabilità o delle attività che sarebbe di bastante per l'economia e per tutti noi. Sì, soprattutto, esatto, per cui appunto c'è questo. E allora, facciamo una cosa, visto che appunto abbiamo cenato questo, cominciamo ad imbastire il discorso anche a livello nazionale. Per esempio io ieri ho sentito un dibattito su una rete nazionale in cui una figura abbastanza nota ha detto sì, noi però, attenzione, stiamo godendo della libertà di adesso per i sacrifici che abbiamo fatto in passato. Adesso sarà vero, sarà falso, ognuno ha le sue opinioni. Però è interessante come cosa, insomma, obiettivamente, siamo stati diligenti prima, abbiamo la libertà adesso. Sì, bisogna anche prendere atto di un dato. Si sente ogni giorno quando viene fatto il riepilogo dei casi covid, dei contaminati, dei contagiati, che prima, nel momento in cui c'è stato il grande problema, eravamo tutti così spaventati. Oggi c'è questi nuovi casi, ma perché c'è una mobilità? Prima non c'era mobilità, oggi ci muoviamo tutti. Naturalmente, siccome il virus, il contagio, se sei fermo non si espande, se sei in movimento qualcosa succede. Quindi, se siamo in movimento, ma comunque rispettiamo quelli che sono tutti i dispositivi, quindi ci mettiamo la mascherina nei luoghi chiusi, manteniamo le distanze in caso di troppe persone. In ogni caso, sì, la contaminazione, il protrarsi anche di queste condizioni, secondo me, resteranno così abbastanza stabili. Ci sarà il giorno che saranno 100, il giorno che saranno 80, ma perché? Se ci si muove, trasportiamo anche il virus, quindi non siamo fermi. Quindi cerchiamo di muoverci nel rispetto della normativa. Esatto. Anche perché, ripeto, io sono naturalmente un'azienda con più di 25 dipendenti, pensare a un nuovo blocco sarebbe devastante per l'economia, per le famiglie. Quindi facciamolo anche per la tutela di quelli che possono essere il mantenimento delle famiglie, l'attività, il commercio, per non distruggere quello che abbiamo creato in tanti anni. Esatto. Poi dopo sviluppiamo il discorso anche chiedendo, attingendo anche alle sue esperienze di imprenditore, ma anche di sindaco, anche dopo, quindi di esperto di gestione della cosa pubblica. Fermiamoci un attimino con Benur Tondini, capogruppo del gruppo civico con Benur per Cabriano, e ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Assieme a Benur Tondini, capogruppo del gruppo civico con Benur per Cabriano, questa è la seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori. Allora, abbiamo detto, poco fa lei ha detto come imprenditore un nuovo lockdown, una nuova chiusura sarebbe devastante, perché obiettivamente già l'economia ha preso un pugno notevole. Un pugno abbiamo con il lockdown, si è dimostrato che siamo fragilissimi, e quindi fragilissimi. Poi io che lavoro nel mondo del prodotto alimentare, nel mondo della ristorazione, quindi della distribuzione di prodotti alimentari, è ancora più fragile. Abbiamo visto proprio le fragilità di tutta la filiera alimentare, e quindi credo che il porre attenzione alle regole sia anche una tutela per continuare a portare avanti il nostro lavoro. La ripresa in questo momento c'è, non è al 100%, però si stanno riprendendo diciamo le quantità di valore economico degli scorsi anni, o perlomeno non ci sono le perite previste, si sta migliorando. Quindi andare in controtendenza, mi vengono in mente qua, i negazionisti, quelli che dicono che il coronavirus non esiste. dico attenzione perché faremo proprio del male a tutto il comparto italiano, quindi ne godrebbero forse solo chi fa dispositivi per la sicurezza o chi fa igienizzanti, ma tutto il settore lo rimetteremo in ginocchio. Pensate alle famiglie, pensate alle persone che devono così portare a casa uno stipendio per mandare avanti le proprie famiglie, quindi c'è tutto un contesto nazionale. Ripeto, siamo ripartiti, non siamo al 100% come lo scorso anno, perché manca tutta la parte del turismo di massa tedesco-olandese, però diciamo che le zone turistiche stanno riprendendo bene la loro attività. Sì, sì, sì. Guardi, se vuole un dato sul Garda, visto che siamo qua nell'entroterra del Garda, quindi possiamo dire che siamo sul Garda, per esempio giugno c'è un meno 74%, adesso non mi ricordo cosa dicono i dati, ma per esempio per agosto le prenotazioni sono quasi... Sì, si sta ritornando piano piano alla normalità, piano piano. Allora, le leggo alcuni messaggi, dunque, dice Tondini, non si lamenti che voi dell'alimentare avete almeno venduto, noi del Ramos Servizi siamo stati fermi, lo siamo ancora in pratica. Sì, però rispondo subito, abbiamo almeno venduto, cosa vuol dire? Che comunque tutti i ristoranti del mondo alimentare hanno chiuso, quindi per tre mesi ne hanno fatto attività. Gente come noi, che fa distributore nel mondo della ristorazione, non ha servito il shopping e si è inventato la vendita del delivery. Io non voglio portare più da una parte o più da un'altra, ne hanno subito tutti, chi ha cercato di trovare delle soluzioni le ha fatte per fare in modo di sostenere l'azienda. Senz'altro ci sono settori che hanno subito ancora più del 90%, noi abbiamo perso il 90%, gente che ha perso il 100%, però tra 90 e 100, capite che sono sempre numeri molto, molto pesanti che ti fanno chiudere l'azienda, non ti fanno sopravvivere. Possiamo dire una cosa, visto che lei ha esorrieto dicendo italiani fino al midollo, gli italiani hanno dimostrato comunque una possibilità. Sì, ma lo stanno dimostrando anche adesso gli italiani, perché il turismo è fatto molto più di italiani in questo momento, gli ristoranti lavorano molto con soggetti italiani. Allora, altro messaggio, ma perché Salvini è contro la mascherina? Mettiamola e basta, non costa tanto, piuttosto che sarà malata tu o io. Questo è un cattivo esempio, questo è un cattivo esempio, vorrei fare una preghiera a chi ci governa, a chi è nel mondo politico, chi è tutti i giorni sui media, che è un esempio, è una figura per chi lo segue. Non si possono fare certe azioni solo perché sia in un palcoscenico importante. Facciamo in modo che se c'è una regola della mascherina o per l'assemblamento e non è chiusi, anche il politico se non è d'accordo, siccome si deve adeguare, si adegua, è un uomo dello Stato, chi fa il politico è un uomo dello Stato, quindi sia, 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 altrimenti si dimette e va a fare il libro di cittadino e fa quello che vuole. Io dico, mi avete citato Salvini, ma poi potrebbe essere qualsiasi altro politico, quindi attenzione, non ne faccio un colore politico, il politico in generale dovrebbe in questo momento qua dare una parvenza di buon padre di famiglia. Altro messaggio, dottor Tondini, come vedi il futuro economico italiano oppure dobbiamo andare a raccogliere le lemosine in Africa e qua vorrei integrare, dicevo anche la sua esperienza di amministratore della cosa pubblica, perché si sente sempre dire soldi, deve dare soldi, deve dare soldi, ma i soldi però finiscono prima o poi. Allora, non so se l'ho detto l'ultima volta che sono stato qua, e ho aspettato a voi, i soldi non vanno regalati, il soldo regalato non è apprezzato, se c'è qualcuno che è indigente e ha proprio problemi lo si aiuta, ma io sono contrario all'elettro di cittadinanza, sono contrario a dare i 500-700 euro così a babbo morto, uno, perché diamo un cattivo esempio alle nuove generazioni, che possono anche dire che con 500 euro trovando qualche schiamotà si può anche vivere, ed è sbagliatissimo. Ripeto, il sindaco, un sindaco, tutti i sindaci sono responsabili della salute dei propri concittadini, ci sta, lo fanno, e intervengono sempre quando ci sono dei cali sociali, ma attenzione che se possiamo andare a fare un'analisi attenta del reddito di cittadinanza o dei soldi dati babbo morto e dovremmo analizzare uno per uno vorrei vedere quanti avevano veramente bisogno e quanti li stanno utilizzando, oppure troviamo in modo che chi riceve certe risorse comunque si metta a disposizione della comunità per fare dell'attività per comunque rendere un servizio per la parte di euro che ha ricevuto. Cioè magari assuma cose di questo tipo qua? Io sono per il fondo perduto in parte dove tu premi un'azienda invento un fondo perduto del 20% dove l'azienda cofinanzia si dà da fare e comunque dimostra che fa un'attività che fa un investimento che si mette in gioco per un periodo di tempo e quindi viene premiata con adesso c'è credito di imposta ci sono varie opportunità ma deve essere comunque cofinanziato e deve essere coinvolto il soggetto che riceve il fondo perduto altrimenti non serve a nulla. Allora altro messaggio Tonini lei ha fatto politica ma si è cambiato tanto adesso è un gran caos dice qui se dovessimo se dovessimo andare alle elezioni domani mattina credetemi penso che sia difficile per 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 molta gente per molta gente capire chi votare come votare e qui nasce la grande delusione che ogni volta che si parla di nuova legge elettorale l'elettorale quando uno è in maggioranza non la vuole quando è in opposizione la vuole cambiare poi quando nel momento in cui va la maggioranza non la vuole più quindi capitemi che la vogliono cambiare solo la legge elettorale quando non sta bene alle loro dinamiche partitiche invece sarebbe opportuno scegliere nel romani parliamo da vent'anni scegliere una legge elettorale nel bene e nel male farla sceglierla e andare a testa bassa in modo tale che uno possa decidere io voto il soggetto pinco pallo ma va a governarlo non voto pinco pallo per poi far governare un'altra persona quindi questo è un altro dei problemi che creano sfiducia nella mia persona che ha fatto 56 anni l'altro giorno figuriamoci in un ragazzo giovane che si trova proprio a entrare nel mondo delle scelte politiche in un contesto come questo leggo due messaggi uno perché mi ha fatto sorridere l'ho visto qua adesso Benùa adotta un barboncino si buono sicuramente noi abbiamo già in famiglia il cane quindi è un un pastore del Bernese quindi mangia 50 chili quindi ne hanno abbastanza di uno oltre che se lo mangi il barboncino allora vabbè Italia ma allora cosa dice delle ultime di conto le chiedono in un'altra semesta io personalmente non sono non sono contento di questo governo ma è un mio è un mio parere personale come non sono contento di tutta la tutta la parte politica dell'opposizione da come stanno gestendo le cose e tutti fanno campagna elettorale non si pensa la rifaccio vedere non si pensa a questo non si pensa non si pensa l'Italia quando lei prima ha detto qualche d'uno ha lavorato per noi per avere questa libertà io faccio un passo indietro abbiamo appena festeggiato il 25 giugno 24 giugno ha soffrino battaglie c'è gente che è morta per noi che è morta per noi per farci avere la libertà oggi noi la sperperiamo e facciamo non c'è più un senso civico forte bisognerebbe tornare ad avere un senso di appartenenza per il bene per il bene comune invece ognuno pensa al suo orticello e questo è un momento difficile se i paesi i nord europei fanno fatica ad accettare di darci delle risorse credetemi fate questo messaggio voi dareste i vostri soldi a chi ci sta governando il vostro portafoglio lo dareste se non vi danno un programma di come investirebbero i soldi di come ve li darebbero di ritorno con quale interesse no e quindi la stessa cosa vale per gli altri abbiamo perso credibilità dobbiamo riconquistare la credibilità degli italiani assolutamente allora le associo altri due messaggi sono due persone diverse comunque io con otto persone morte di covid sono offesa da salvini bocelli e lazzaroni vari dice una ascoltatrice e un altro dice lo stato d'emergenza però doveva essere procrastinato o le norme europee non concedono gli aiuti questa è la legge sì rispondo rispondo al primo sì quindi siamo in un preso democratico rispetto qualsiasi pensiero faccio fatica ad accettare il fatto che qualcuno neghi il coronavirus perché c'è gente che è morta c'è gente ci sono delle famiglie che hanno perso parenti vicini stretti l'ospedale di Manto è un esempio forte che ha trovato una soluzione con il dottor di donno con plasma quindi come si può dire non esiste il coronavirus il dottor di donno ha appena detto che chi è negazionista non ha capito niente come si può dire che non esiste il coronavirus però dico rispettiamo rispettiamo ma non accettiamo puoi dirlo ma non lo accetto quindi lo dicono pure se poi lo dice un politico è ancora è ancora più grave ripeto vuole dire quello che vuole che si dimetta che vada a fare la persona normalissima che vada a fare i comizi eccetera ok poi noi italiani non ci sentiamo italiani veri poi ci sono degli altri messaggi sulla per esempio su Cavriana è vero che la prossima coalizione sarà composta da lei e da Cauzzi guardi che lo dicono in molti è già arrivato qualche volta questo messaggio non prima che va davanti che c'è tante righe da leggere Cauzzi sta governando da sei anni giusto ne ha ancora quattro quindi sia prematurissimo parlare di coalizione sta governando da sei anni quindi basta sono cinque cinque più uno e che mi dispiace che non sento non sento l'opposizione non vedo movimenti non vedo non vedo l'opposizione come eravamo noi prima che comunque io ero qua in radio raccontavo tutto quello che si è da Cavriana c'è un silenzio c'è un silenzio tombale non sta a me perché noi siamo un gruppo civico al di fuori del consiglio comunale quindi non vogliamo fare critiche al massimo se c'è qualcosa che non ci quadra lo porteremo all'attenzione dei cittadini sarebbe un ruolo dell'opposizione ricordo che l'opposizione è il vice sindaco di prima quindi erano pappa e ciccia prima noi lo diciamo ancora loro che non andavano d'accordo che c'erano dei problemi i pomeriggi c'erano ci sono venuti fuori ripeto oggi i cauzi governa da sei anni perché maggio è passato cinque anni e cinque anni più un anno e qualche mese poi perché Castellaro ci dà sempre lignate sui denti nel tamburello e quella provoca qui visto che io sono solo un direttore tecnico lascio questa domanda al mio fratellone Oscar Tondini che è il presidente dell'Università Caponese che la prima volta che sarà qua in radio risponderà risponderà a questo quesito li aggiriamo allora dunque per quanto riguarda la banda invece li ho tenuti per ultimi però non si possono fare non potete fare concerti dice il messaggio e dice allora Faganelli di Castelgoffredo dice che non si può fare concerti le dice di sì non capisco più niente no allora io non dico che si possono fare concerti se guardate in generale sono già riattivate molti spettacoli o in Arena di Verona o orchestra che hanno fatto concerti nel mantenimento e delle distanze di sicurezza distanze nel pubblico la banda non può farlo se possiamo andare al bar e bere un bicchiere di vino a distanza non vedo perché una banda non può trovarsi in uno spazio verde a fare le prove della banda oppure organizzare un concerto mantenendo a distanza gli spettatori come quando si va in chiesa cerchiamo di non fare delle polemiche sterili si può fare manteniamo le distanze e tutte quelle che sono le prescrizioni che ci ha dato la regione Lombardia certo comunque chi sta davanti nella banda di Cavaliana Benurtoni sta tranquillo perché lui ha lo spazio da culisse del trombone per cui ha due metri ma poi abbiamo spazio immensi in Cavaliana per mantenere le distanze di sicurezza allora siamo in chiusura noi ringraziamo tantissimo Benurtoni sono sempre io che ringrazio voi per lo spazio che mi dedicate saluto i radioascoltatori una buona giornata e per chi va in vacanza che sia una buona vacanza e facciamo girare l'economia italiana grazie grazie sono le 10 e 59 minuti ora esatta in collaborazione